Buongiorno, buongiorno, buon sabato mattina, sono 7.30, siamo in diretta per Occhio ai Giornali, la rassegna stampa di Fano TV che apre come tutte le mattine la giornata e lo spazio dell'informazione. Un saluto anche a coloro che ci seguono nelle repliche a seguire in quella delle 13.30. Bene, oggi naturalmente ci sono le pagine della cronaca nazionale piene dell'attentato, degli attentati, dei 7 attentati simultanei avvenuti a Parigi nella serata di ieri e con oltre 150 morti. Noi però abbiamo anche tante pagine quest'oggi della cronaca locale che vi faremo vedere, però con ordine. Procediamo dal Santo del Giorno, oggi è San Giocondo Vescovo, è sabato 14 novembre, il sole è sorto alle ore 7 e tramonterà alle 16.45. Guardiamo i dati della centralina meteo di Fano TV, temperatura vicina ai 9 gradi, e vedete ancora permane un'umidità del 98%, e quindi la situazione che ci rimanda anche la webcam è questa, potete vedere, quindi l'umidità del 98% crea questa foschia, crea questa nebbia che compare anche nelle segnalazioni che ci danno i tecnici della protezione civile, marche che naturalmente ci prospettano quello che sarà il tempo, l'evoluzione del tempo per la giornata di oggi, di sabato, cielo nuvoloso per nebbie e nubi basse, in particolare sulla fascia costiera, parziali schiarite durante le ore centrali della giornata, nessuna precipitazione, anche per domenica più o meno il tempo è lo stesso, inizialmente nuvoloso, nebbie, vedete la simbologia della nebbia compare, però in graduale dissolvimento durante la mattinata e schiarite nel pomeriggio, nessuna precipitazione, anche per lunedì stesso schema, sereno, poco nuvoloso, precipitazioni assenti e il mare è quasi calmo, vediamo la tendenza invece per i giorni a seguire, blocco anticiclonico, continuerà a caratterizzare il tempo anche per la prossima settimana, rendendo la situazione poco evolutiva, quindi niente stravolgimenti di tempo, come vi dicevo, oggi ho tante pagine da farvi vedere, tutte molto variegate, le notizie nella stampa locale e quindi insomma tanti spunti e tante notizie, cercherò di farvele vedere tutti. Iniziamo dal resto del Carlino, dalla pagina di Pesaro, in testa ospedale unico, bocciatura totale, sondaggio conferma maggioranza dei contrasti sia a Pesaro che a Fano e Ceriscioli ci riprova. E poi nella fotonotizia un medico del 118 fa partorire una bimba frettolosa in ambulanza e il terzo caso in un anno lo chiamano Dottor Parto e vedete qui nella foto tutti e tre i protagonisti di questa bella vicenda, questa vicenda a lieto fine, nata per strada. Ancora nelle pagine del resto del Carlino di Pesaro, ladri nella casa di Silvio Cattarina, perché sono venuti proprio da me, vicino di casa, Valentina Mazzoli a Tigua a Cattarina, anche lei razziata di Ori e di Giuglielli, sconcerto del noto psicologo, derubato di diversi Ori e computer. Ancora da Pesaro al Capannone, è dell'ospedale, siamo in via Pantano, città in degrado, una situazione indecente, la protesta dei residenti, dicono il Capannone è dell'ospedale, ma versa in pessime condizioni, vedete queste sono le foto che compaiono sul resto del Carlino, però c'è un botta e risposta, dicono i residenti ci sono strumenti e altri oggetti che vanno in rovina, invece l'amministrazione dice no, niente va sprecato. E' azienda Marche Nord, puntiamo a valorizzare l'aria in un altro modo, potremo anche decidere di venderla. Le pagine di Fano del resto del Carlino aprono anche qui con una razzia, un furto in appartamento, siamo in via Roma, nella casa di Stefano Bologna, 65 anni, ex Granata, ex giocatore dell'Alma, ci hanno svuotato l'appartamento, i ladri rubano appunto in via Roma, arrampicandosi nelle tubature, un bottino di 20 mila euro, la figlia li ha sorpresi ma non è entrata, insomma dice Stefano Bologna, per fortuna, perché se ce l'ho io non so come finiva, vedete l'appartamento, la camera da letto che è la prima cosa che i ladri vanno a vedere, anche il Seretti, il commissario di Fano la più volte è ripetuto, è la prima cosa che vanno a vedere, quindi non tenete oggetti di valore o soldi in camera da letto, sparpagliateli nella casa, questa è la zona e la via d'accesso che hanno scelto i ladri, la tubatura del gas che è ancorata allo stabile e quindi serve come se fosse una pertica, e qui il cancelletto, e il cancelletto è divelto. Le pagine del resto del Carlino di Fano parlano anche dell'area dell'ex zuccherificio, round ai proprietari, il Tar riporta la deriva in consiglio, accolto il ricorso di Madonna Ponte, durante esulta, l'amministrazione dice, ma quella sentenza non riconosce la richiesta di risarcimento danni. La pagina è sempre del resto del Carlino di Fano, parla anche della caserma, e il caso è portato da Antonio Baldelli, di Fratelli d'Italia, che non molla, dice la caserma nascosta la verità, che soluzione vuole adottare il Comune, lo dica chiaramente, la proposta naturalmente della caserma dei Carabinieri è una proposta inadeguata, dice si utilizzi invece l'edificio di fronte. E poi due incontri, due seminari che si sono ottenuti nella giornata di ieri, uno che parlava del piano di sviluppo rurale, il PSR, quindi gli interventi di regione sugli agricoltori, ha riscosso un grande successo, un settore, quello agricolo, che ha bisogno di rilancio, e poi si parlava di marineria, un convegno dove è intervenuto l'onorevole Giuseppe Castiglioni, il suo segretario si è parlato di vongole, di pesca, che sono buone notizie per i vongolari, perché il limite passa da 25 a 22 mm, quindi evitate multe e sanzioni, sequestri e quant'altro per i pescatori di vongole. Andiamo nel Corriere Adriatico, partiamo da Pesaro, gran finale con i cooking show di Ceriscioli, siamo ad Acqualagna, round finale, weekend finale per questa Kermes, che ha segnato il cinquantesimo anno di questa fiera nazionale, e poi abbiamo bisogno di sabbia e arenili veri, parlano gli operatori turistici che incontrano i consiglieri, si parla di spiaggia, problemi ventennali che rendono quasi inutile il piano spiaggia, naturalmente bisogna fare le cose per tempo e non all'ultimo momento, quando si parla di stagione turistica e stagione estiva, sicurezza, due telecamere di sorveglianza installate entro la fine dell'anno, dotate di questo dispositivo, proteggeranno la zona del casello autostradale. Ancora dalle pagine di Pesaro, ma andiamo a Urbino, caccia ai clienti delle mini prostitute, rapporti in casa o in auto, pagati con 30-50 euro, ricariche telefoniche, erano due minorenni, sono due minorenni di 15 e di 16 anni, insomma, in questo momento, sono agli arresti domiciliari, due ultra sessantenni, ma, hanno detto i carabinieri, il giro era molto molto più vasto e quindi si indagherà per scoprire appunto tutta la clientela di queste due ragazzine. Fano per il Corriere Adriatico, Seri, un attacco al sindaco, è il vassalo del PD e di Pesaro, duro attacco di Carloni, il nosocomio chiude per colpa sua, progetto Fano e Udc, si deve dimettere, dicono. Poi, Fanesi, prova a resistere, Chiaruccia è il sito migliore, sempre in tema di ospedale, e anche la pagina del welfare viene segnalata nel Corriere Adriatico, tanti minori affidati al Comune per le rette di un milione all'anno, fenomeno in aumento per crisi e migranti, emergenza sociale nell'articolo di Massimo Foghetti, e poi Scogliere, il sì del dirigente della Regione, l'ex sindaco però critica il rinvio della strada delle barche, ma l'assessore ai lavori pubblici la difende, vedremo questa strada delle barche, se troverà il suo inizio, Selly, il tuo sorriso e i tuoi occhi, mi sono rimasti nel cuore, tanti messaggi, tanti commenti sulla sua pagina Facebook e sui social network, lunedì ci sarà l'autopsia, quindi ancora funerali con data da decidere. La Prefettura, siamo a Marotta per il casello che dovrebbe essere soppresso e fare opere accessorie per sottopassi e quant'altro, la Prefettura ignora il progetto, opere accessorie attraverso Marotta, l'associazione di cittadini è perplessa dopo l'incontro con il Prefetto, Resta però un buon segno il fatto che il Presidente del Tar voglia far vedere chiaro su questa vicenda. Andiamo a Senigallia anche, sconti e feste, lo shopping decolla, tante iniziative musicali in centro per un centro vivo e vitale, la gente attirata anche da vetrine viventi e concorsi a premio per, insomma, in vista del Natale, si cerca di vivacizzare il centro storico di Senigallia. Pesaro, l'ultima testata che vi faccio vedere, come sempre, è il messaggero, partiamo da Pesaro, ospedale, alleanza per Chiaruccia, il Comunifano vuole tessere accordi con le altre amministrazioni dell'entroterra, la maggioranza conferma la linea di Seri, in sofferenza e mal di pancia per l'out-out di Pesaro e Regione. E' la fotolotizia, le nostre ricette per il turismo, naturalmente, sono gli operatori della Commissione Comunale. Buone notizie, buone notizie per una infrastruttura importantissima per Fano, della quale se ne è parlato tantissime volte, anche sui giornali, parliamo della Fano Grosseto, buone notizie perché il Vice Ministro Nencini, a Urbino, ha incontrato, naturalmente, ceriscioli e ci sarà un nuovo progetto entro Natale, puntiamo sul 2021, ma la svolta è questa, la Fano Grosseto sarà realizzata dall'ANAS e senza pedaggio, quindi, insomma, non ci sarà pedaggio, questa era una questione che aveva, insomma, allarmato un po' i residenti delle zone limitrofe alla superstrada, solamente per quella che sarebbe stato il completamento ad opera di privati, insomma, ecco, diradata questa ipotesi, l'ha detto il Vice Ministro Nencini, l'ANAS farà la strada senza il pedaggio. Turismo, può essere migliorato? Deve essere migliorato, molte richieste e proposte di bagnini, ristoratori e albergatori, la criticità, rimane sempre la renile che si riduce sempre di più. Santa Marta, aspettiamo risposte certe, la coordinatrice, naturalmente siamo all'alberghiero, dice la coordinatrice degli studenti e dei genitori, avverte, la scuola non ha i tempi della politica, noi abbiamo fretta, lunedì, in Consiglio Comunale, atteso l'assessore, un riscontro all'interrogazione presentata dall'opposizione, e quindi, insomma, vedremo anche le sorti dell'Istituto Santa Marta, ultima pagina, quella del messaggero di Fano, naturalmente, anche qui notizia in grande evidenza sull'ospedale, nuovo ospedale, basta con le monarchie assolute, la maggioranza conferma la linea di Seri, insofferenza per l'out-out di Ricci, Chiaruccia, è meglio dell'ipotesi di Muraglia, il sindaco non è sempre più convinto, anche il PD stretto tra più fuochi e concorda, pronti al dialogo, ma non accettiamo che si decida a prescindere dall'accordo con i territori, queste le parole di Massimo Seri, e poi l'addio a Selli, i funerali, slittano alla prossima settimana, è stata disposta dall'autorità giudiziaria l'autopsia, e quindi slittano di qualche giorno, sicuramente lunedì o al più tardi, martedì prossimo, per salutare per l'ultima volta Selli. Regione, sì, al progetto anti-erosione, siamo nella zona di Sassonia, e poi una notizia di cronaca, insomma, i carabinieri a San Costanzo, giovane ubriaca, d'Aina Scandescenta, e carabinieri e vigili si procurano di bloccarla. Bene, ci sono riuscito, ve le ho fatte vedere tutte, vedete tante notizie, tanti spunti, e quindi questo è quello che trovate in odicola quest'oggi per i quotidiani, il resto del Carlino, messaggero e corriere adriatico. Grazie per averci seguito, la Resena Stampa torna lunedì mattina alle 7.30, naturalmente, puntualmente. Buon sabato e buon fine settimana a tutti voi. Grazie a tutti.